Siamo in diretta dalla redazione di Bergamo News, siamo in compagnia di Carla Rocca dal 2006 sindaco di Solza e candidata alle regionali con il PD. Buon poveriggio a tutti. Buongiorno, lei è qui oggi per annunciare un incontro che si terrà quest'oggi a Treviglio, il tema è quello delle unioni civili. Sì, tra poco alle 17.30 a Treviglio nella sala civica ci troviamo per discutere di un argomento che in questa campagna elettorale non ha trovato grandi spazi e che sono i problemi che riguardano, il titolo dell'inconvenio è oltre le unioni civili, cioè dopo la legge delle unioni civili che cosa c'è ancora da fare e anche sul tema regionale, benché non ne abbia competenza la regione, secondo me una sensibilità verso l'argomento del mondo gay e LGBT è importante. Con noi ci sarà Sergio Lo Giudice che è il senatore che con Monica Cirinà ha scritto la legge sugli unioni civili, ci sarà il presidente dell'Arcigay Marco Arlati, ci sarà Clara Colombo, presidente dei Gd Bergamaschi e Beppe Guerini che è il deputato della zona, candidato nella zona in Treviglio. Ecco, un tema è quello delle unioni civili che abbiamo recentemente affrontato anche noi di Bergamo News pubblicando un articolo proprio pochi giorni fa, si è stabilito che sono 104 le unioni civili celebrate nella nostra provincia, insomma, le sembra un numero significativo? Ogni persona ha un numero significativo, nel senso che stiamo parlando della volontà di persone di unirsi e di dare una veste anche legittima e legale alla loro unione, per cui ogni numero è significativo. E' chiaro che anche i matrimoni, diciamo, tradizionali, nel senso banale della parola che si utilizza, sono in diminuzione, per cui voglio dire è tutto correlato. E poi comunque le coppie che stanno, diciamo, formandosi sono anche giovani, per cui noi abbiamo fatto una battaglia di civiltà che riguarda anche le coppie giovani che si stanno formando. Molte delle coppie che sono già storiche hanno celebrato il loro matrimonio all'estero, per cui anche questa parte non manca. Secondo me è una riforma che è verso una legge, una norma che riguarderà più le coppie giovani che stanno formando, sono all'inizio del loro percorso affettivo. Senta, cambiando argomento, mancano ormai pochi giorni all'Election Day del prossimo 4 marzo, quali sono le vostre sensazioni? Allora, è inutile nasconderlo che c'è una forte disaffezione dell'elettorato dei cittadini verso la politica. È dovuto a tanti fattori, è dovuto a un periodo pesante di crisi, sia economica ma anche sociale, che la globalizzazione ha portato con sé, che ha investito ogni fascia sociale della popolazione. Per cui è chiaro che c'è una disaffezione. Sul tema regione, secondo me, si gioca una grossa battaglia e secondo me lì si sente di più la necessità. Quello che stiamo facendo come candidati è quello di far capire che si sta giocando una grande partita che dopo 23 anni può vedere veramente questa regione ad una svolta, ad un rinnovamento che anche solo per una questione veramente, lo dico in modo laico diciamo, mi passa il termine, anche solo per una regione di ricambio che è necessario, ha bisogno veramente di una nuova, di linfa vitale. Senta, ci parli un po' quali sono i punti cardine del suo programma? Insomma, ci sono dei temi che le stanno a cuore più di altri? Per esperienza amministrativa, Solso è sempre stato conosciuto per un comune che ha fatto della battaglia ambientale una battaglia sentita. Abbiamo fatto diversi interventi, abbiamo fatto stop al consumo di suolo quando ancora non era di modo a dirlo. Abbiamo fatto interventi di riqualificazione tecnologica sulla pubblica illuminazione e sul fotovoltaico, per cui abbiamo sempre avuto una sensibilità e abbiamo sempre cercato di mettere la nostra amministrazione in quest'ottica. È chiaro che in un comune piccolo più di tanto non si può incidere, vuoi cambiare le sorti della regione partendo da un comune di 2000 abitanti. Per cui mettere a disposizione a valore tutta questa esperienza, 18 anni di amministrazione che ho alle spalle, secondo me può servire. Tra l'altro la regione Lombardia è uno dei tre posti più inquinati in Europa e uno dei più posti più inquinati al mondo, nel quale non è stato fatto assolutamente niente, nessuno se ne è mai occupato, anzi è quasi sconosciuto, io nei dibattiti che vado a fare porto sempre l'argomento ambiente, mi rendo conto di quanto poco si è conosciuta la realtà dell'inquinamento, specialmente dell'aria, in Lombardia e nella Piena Parana in particolare in Lombardia. C'è una sottovalutazione di questo argomento notevole e credo che sia giusto che le persone siano consapevoli e capiscano che in tutti questi anni chi ha governato la regione Lombardia non ha assolutamente fatto nulla, non ha mai affrontato questo problema, che è un problema gravissimo, vuol dire che l'aria che respiriamo quotidianamente noi, i nostri figli e le persone che ci sono vicare, è tra le più inquinate d'Europa, per cui chiaramente non è più possibile continuare così, se non lo facciamo noi non lo farà nessun altro per noi. Ecco, al di là del focus sull'ambiente, la domanda è perché insomma il PD sarebbe un'opzione più credibile rispetto alle altre, insomma, perché i cittadini lombardi dovrebbero scegliere voi? Perché abbiamo candidato presidente migliore, prima di tutto. Giorgio Gori ha dimostrato capacità di fare squadra, capacità di sintesi, capacità di governo. È un uomo che studia molto, che si prepara, che ha affrontato questo impegno con grande determinazione. credo che sia uno ascoltato tutti, un'altra cosa che non è così scontata. Il suo programma è stato costruito a più mani, è stato molto curato. Ogni scheda del suo programma aveva la declinazione dell'impatto ambientale, cosa che non sta facendo nessuno, perché è un argomento molto sottovalutato a cui le persone invece hanno aumentato la loro sensibilità verso questo argomento e che ha delle declinazioni economiche non indifferenti. Per cui una capacità di affrontare la complessità e di cercare soluzioni che non ha nessun altro candidato alla regione. Il primo punto è quello. Il PD perché è il partito che maggiormente può supportare questo candidato e perché essendo stato anche storicamente uno dei più grandi partiti italiani ha selezionato una classe dirigente in grado di affrontare questi problemi perché quello della classe dirigente all'interno dei partiti è un argomento abbastanza importante. All'interno del PD, proprio per storia, siamo riusciti mi ci metto anche io ovviamente perché sono anche io candidato, siamo riusciti comunque a costruire delle persone che sono in grado poi di portare avanti e di affrontare, di portare avanti i programmi e di affrontare queste tematiche complesse. Senta, in chiusura da un incontro all'altro, da quello di oggi a Treviglio, lei parteciperà anche la settimana prossima a un altro incontro importante che voleva annunciarci, giusto? Sì, che è la chiusura della mia campagna elettorale il primo di marzo, un giovedì, alla sera alle 20.30 ci troviamo nella chiesa vecchia di Calusco D'Adda, in via dei Tigli e verrà Maiorino e poi passerà anche il Presidente della Provincia Rossi con loro, chiuderò la campagna elettorale, Maiorino lo conosco, un amico lo conosco da tanti anni, ha apprezzato il lavoro fatto in questi anni sia come sindaco sia all'interno del partito, perché ho recuperato anche il ruolo del partito, e sarà con noi per chiudere la campagna elettorale, parlando di tutto quello che riguarda, noi ovviamente lo conosciamo tutti per le tematiche sociali, di cosa vuol dire affrontare a 360 gradi la vita delle persone che non sono mai disgiunte e le tematiche che noi affrontiamo. L'ambiente e il tessuto sociale sono i due elementi che fanno la differenza tra il vivere bene e il vivere male. Ok, ringraziamo Carla Rocca per la disponibilità, ringraziamo i nostri ascoltatori per l'attenzione e vi rinnoviamo l'appuntamento alle settimane prossime. Grazie ancora per l'attenzione. Grazie a tutti e buon voto.